Il Piemonte è arrivato ormai ad avere più di 70.000 casi totali. È ancora presto per capire se le manovre di restrizione introdotte questa settimana stanno producendo effetti, ma la curva di crescita dei nuovi positivi è ancora molto ripida, quindi non c'è da stupirsi se entro questa settimana arriveranno ulteriori restrizioni. Quello che però preoccupa la popolazione e anche gli addetti lavori è la confusione con cui le nuove indicazioni arrivano da parte delle istituzioni. C'è confusione per quanto riguarda la gestione delle scuole, c'è confusione per quanto riguarda la gestione di questi nuovi tamponi rapidi che in un video precedente io ho sponsorizzato perché sarebbe un'arma formidabile per poter accelerare il processo di diagnosi. Il problema principale è che questi tamponi rapidi non sono diagnostici. Nel momento in cui si ha la positività per un tampone rapido, il paziente deve essere sottoposto a un ulteriore tampone di conferma per poter avere la diagnosi definitiva di Covid. Questo crea un ulteriore problema a livello gestionale perché il sistema sta già facendo fatica ora a gestire la richiesta di tamponi da parte dei medici di famiglia e dei pediatri. Il concetto fondamentale da ripetere per l'ennesima volta è che è difficile da far capire anche a chi nega la dimensione del problema. Non è la gravità della malattia in sé, ma la capacità del sistema di gestire tantissimi casi nello stesso momento. Covid è una malattia guaribile nella grandissima parte dei casi, ma spesso occorre un supporto ospedaliero. Se troppe persone si ammalano contemporaneamente, gli ospedali non ce la fanno. Per cui siamo costretti ad aprire nuovi reparti esclusivamente dedicati a questa patologia. Se abbiamo però un sistema territoriale in grado di intercettare precocemente i positivi e trattare a livello domiciliare quelli scarsamente sintomatici, ma anche quelli più sintomatici, se comunque le condizioni rimangono stabili, il sistema regge. Forse è troppo tardi per richiedere ancora una volta il potenziamento dei servizi territoriali. In ogni caso è fondamentale, se vogliamo, superare questa lunga, lunga stagione che ci attende senza avere troppe conseguenze.